Un saluto a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Rieccoci qui con la guida al platino di Dragon Ball Z Budokai HD Collection. Nel video scorso abbiamo iniziato insieme l'incontro mondiale a livello principiante e in questo video continueremo con l'incontro mondiale a livello esperto. A livello esperto si può sbloccare se prima avete finito il livello principiante e poi potrete acquistarlo nel negozio dell'abilità da Mr. Popo. Allora io dopo il video scorso ho fatto un po' di soldi finendo il torneo a livello principiante. Dopodiché sono riuscito ad acquistare la capsula che mi serviva per Gohan da unire insieme all'abilità malattia cardiaca virale ovvero l'abilità bacino. Sono riuscito ad acquistarla al costo di 2000 della Zeni. Vi ricordo che per acquistarla è un sistema casuale quindi non è detto che la lasci subito. Quindi prima di continuare il torneo a livello esperto vi ricordo che per vincere più facilmente questi tornei vi consiglio di andare nelle opzioni nelle opzioni di gioco e impostare molto facile e molto debole. Il tempo duello impostatelo a 30 secondi perché così se dura di meno riuscite con le abilità che poi adesso vi farò vedere riuscirete a vincere più facilmente. Fatto ciò modificate le abilità del personaggio. Ah magari vi faccio vedere solo un attimo ci ho messo un po' a dire il vero per sbloccare quell'abilità che mi serviva al vaccino. Infatti poi praticamente ho sbloccato tutte le abilità di supporto. Molte sono anche doppie, triple, quattrople. Comunque eccola qui. Quella che mi serviva era vaccino che annulla l'effetto della malattia cardiaca virale. E poi dovete equipaggiare anche questa ovviamente. Adesso farò vedere. Poi tutte queste sono anche utili per altri scopi. Poi comunque le acquistate qui da mister popo, da popo, con supporto. Anche perché l'abilità vaccino purtroppo non si sblocca nella storia. Quindi dovete per forza acquistarla qui. Allora cambiamo le capsule. Io vi ricordo che uso Gohan perché essendo un bambino è più difficile da colpire. Allora io ho impostato la Sensu. Così in caso di sconfitta mi posso rialzare con la vita piena. Potere del sangue misto che aumenta la forza di attacco. Poi questa è importante perché questa abilità fa scendere la salute dell'avversario e anche la nostra. però se equipaggiamo l'abilità vaccino contrasta la malattia cardiaca. Quindi la nostra salute non scende ma quella dell'avversario sì. Quindi vi basterà solo pararvi e colpire di tanto in tanto l'avversario per vincere entro 30 secondi. Così meno dura e più è facile vincere l'incontro. Quindi voi impostate queste abilità e dovreste vincere più facilmente del normale diciamo. Ok, l'ho salvato. Io ho trovato che questo sistema rende più fattibile vincere il torneo. Specialmente ai livelli più avanzati. Pusciamo pure. Allora. Ah no, mi sono dimenticato una cosa. Importante. Perché se no non posso andare avanti. Nel negozio delle abilità si può acquistare il livello successivo del torneo. Ovvero il torneo mondiale a livello esperto. Acquistiamolo, costa 4.000. Eccolo qua. Va bene. Poi qui vende delle mosse. Adesso il prossimo si sbloccherà, sarà acquistabile se vinciamo questo torneo a livello esperto. Quindi andiamo a iniziarlo. Allora, adesso vediamo come ottenere l'abilità vaccino più facilmente. Se voi andate nel negozio delle capsule da Mr. Popo e avendo già acquistato nella casella raccomandato l'incontro mondiale a livello esperto, saranno disponibili adesso altre abilità, sempre sotto la casella raccomandato. Infatti sono casuali, però in questo caso potete vedere il nome dell'abilità scritta sullo schermo. Quindi in questo modo sarà molto più semplice acquistare vaccino, anziché acquistarlo dalla casella supporto dove non compare il nome dell'abilità. E quindi dovete sperare di acquistarla. Invece in questo modo, se voi entrate e uscite dal negozio, come sto facendo adesso, compariranno sempre delle abilità diverse. Quindi voi appena vedete l'abilità che vi interessa, in questo caso il vaccino, lo acquistate subito. Io quando ho registrato il video mi ero completamente dimenticato di questo metodo. Infatti come avete visto l'ho acquistata sotto la casella supporto, però ho impiegato molto più tempo così. Anche perché ho dovuto fare poi gli incontri mondiali e fare un po' di soldi perché ogni volta dovevo acquistare quell'abilità e sperare che uscisse. Invece in questo modo è molto più semplice perché voi appena acquistate l'abilità chiave sotto raccomandato, quella grigia, che in questo caso era l'incontro mondiale. Se voi avete acquistato l'incontro mondiale, compariranno poi infatti altre abilità. In questo modo è molto più semplice. Vi consiglio di usare questo metodo perché ci mettete molto meno tempo ed è anche meno frustrante rispetto al metodo che vi ho fatto vedere prima. Comunque come vi ho detto nel video precedente ci tenevo a farvi vedere quest'altro metodo perché è molto più semplice e veloce. Vi farà risparmiare tempo. Ecco adesso come vedete è uscita l'abilità vaccino, costa 4.000, costa 2.000 in più rispetto alla casella supporto, però almeno in questo modo la vedete scritta sullo schermo e non dovete sperare di acquistarla casualmente. Questo è comunque un sistema casuale, però almeno vedete il nome scritto sullo schermo. Eccola qui, vaccino. Ho impiegato circa due minuti. Magari potreste metterci più tempo, però almeno è tutta un'altra cosa vedere il nome scritto sullo schermo piuttosto che non vedere niente e sperare nel caso. Comunque voi usate questo sistema e fate prima. Adesso riprenderemo insieme il torneo e continueremo insieme l'incontro mondiale. Questa era una registrazione off screen che ho fatto perché appunto volevo mostrarvi questo metodo più semplice. Iniziamo. Eccoci qua, questo era il principiante, durava 3 round, invece a livello esperto ci sono 4 round, c'è un round in più. Allora, noi scegliamo Gohan. Magari scelgo l'altro costume con il tasto quadrato. Bisogna premerlo quando si sceglie il personaggio, in questo caso con lui è in questo menu qua, infanzia. Premo quadrato adesso. Personalizzato, mi raccomando, scegliete questo perché altrimenti ha le mosse standard. Quindi, personalizzato. Ok, primo round con Krilin. Ok, primo round con Krilin. Comunque, come potete vedere, avendo impostato quelle capsule, la tua vita scende e la nostra no. Non voglio rischiare perché se poi mi schiva... Però va bene. È stato facile, era... Dovevo fare per forza così. E questo era il primo round. Ok. Primo round andato. Secondo incontro contro Freezer. Eh, questo fa sempre il furbo. Infatti, quando ho fatto il torneo per fare i soldi, era un po' più un osso duro rispetto agli altri. Non si faceva buttare fuori dal ring tanto facilmente. Adesso, magari vi farò vedere quella tecnica che... Ogni tanto, comunque... È meglio colpirlo. Rimanete sempre in centro al ring. Cercate di non stare mai sul bordo, perché altrimenti vi può buttare fuori. Io adesso mi paro. Ecco, adesso mi devo spostare, però. Se mi... Se me lo permette. Ok. Voi fate così e rimanete più o meno al centro. Ecco, vedete, adesso è finito il tempo. Sì, vabbè, era finito comunque. Ho vinto io, perché avevo più vita... Quando è finito il tempo. Quindi, voi fate così e... Vincete facilmente. Questa tecnica vi sarà molto utile nell'ultimo incontro mondiale, quello a livello avanzato. Questo è ancora ancora fattibile. Potete farcela anche senza queste abilità. Adesso c'è C16. Ti do qualche colpo, giusto per velocizzare un po' il processo. Per essere sicuro. Eh, le prese purtroppo non sono parabili. Cioè, in realtà sì, però... Non ci riesco quasi mai. Ok, li devo spostare. Ok, ce l'abbiamo fatta. La finale contro Yanco. Ho giusto qualche colpo. Mi stava per fare una mossa. Ah già, questo non si può... Ecco, qua sono un po' più al sicuro. Sì, non importa tanto, sto in vantaggio io. Ok. Abbiamo vinto il torneo. Vabbè, lui ci fa la mossa, però... Il tempo è finito. Bene. Abbiamo vinto il torneo mondiale. Il torneo Tenkaichi. 30.000 a Zenin. Abbiamo sbloccato il trofeo. Campione esperto Budokai. Se fossi arrivato secondo, avrei vinto 15.000. Ma do che casino che fa il commentatore. E abbiamo sbloccato... Mr. Satan. Sono il numero uno. Bene. Ci manca solo un personaggio da sbloccare. Bene, allora. Adesso... Adesso... Dopo aver terminato questo torneo... Potremmo acquistare... Il... Però lo faremo nel video prossimo. Il torneo avanzato... E poi si potrà acquistare anche la modalità di Mr. Satan. Legenda di Mr. Satan. Però lo vedremo poi più avanti. Va bene, allora. Io direi che... Mi posso fermare qui. Vi ringrazio a tutti per aver visto questo video. Spero che vi sia piaciuto. E vi do appuntamento con il prossimo episodio di Dragon Ball Z Budokai. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti.